Fortunato Martino, Espressioni, fioraio di Reggio Calabria, ecco un settore questo dei fiori in crisi nonostante le aperture però i fiori non ci si vendono ma oltre a questo anche la stagione del wedding è un fallimento? Sì sicuramente perché calcoliamo che non è tanto la chiusura che se vogliamo alla fine è finalizzata a se stessa i due mesi beh in qualche modo si poteva sopportare una chiusura del genere il problema è che è andata la stagione perduta, la stagione nel suo insieme perché calcoli che tantissimi sposi, noi lavoriamo tantissimo col wedding, col matrimonio in generale tantissimi sposi ci hanno già disdetto matrimonio di settembre, di ottobre perché le condizioni per fare il matrimonio sostanzialmente non ci sono perché una coppia di sposi dovrebbe sposarsi con delle condizioni assurde, le condizioni sono quelle che non possono invitare più di tante persone gli invitati stessi in sala dovrebbero stare distanziati uno dall'altro, tutti gli invitati dovrebbero portare una mascherina e capisce che con queste condizioni nessuno si sposa perché dice alla fine il matrimonio è un giorno di felicità, un giorno di spensieratezza si immagini un matrimonio dove girano tutte le persone con mascherine o tutti sigillati con scafandri o paratie in plex per non avere contatti l'uno con l'altro la stagione è andata via tutta 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 ormai quest'anno Ritornando al settore fiori del giornaliero, nonostante le ordinanze di Chisù l'avete riaperto, come stanno andando le vendite? Intanto a dir la verità non abbiamo riaperto del tutto perché a noi c'è stata data la possibilità di aprire solamente con le consegne a domicilio quindi il lavoro è raddoppiato nel senso materiale del lavoro e dimezzato nell'incasso perché ti devi venire in negozio preparare la merce e sostenere i costi per consegnarla al cliente non gli possiamo dire te la stiamo portando a domicilio ci devi spendere 30 euro, 40 euro, 25 euro se il cliente aveva deciso che sappiamo tutti che il fiore non è sicuramente un bene di prima necessità da accompagnare a un regalo, il cliente voleva spendere in quell'occasione le 15 euro, le 20 euro non gli possiamo dire solamente perché te lo portiamo a domicilio ci devi spendere 30 quindi sostanzialmente, ripeto, il discorso del lavoro ancora non è riaperto, si riaprirà il 4 maggio ma fino al 4 maggio stiamo lavorando in queste condizioni E' ottimista? Ma sì, sì, dai, ottimista bisogna esserlo sempre, per carità però a me fa ridere tutte quelle cose, le scritte che vedo in giro andranno tutto bene dico la verità, io sono ottimista di natura, però quando vedo tutte quelle scritte andranno tutto bene io penso, se non morimo prima, detta la Calabrese Grazie a tutti